Ciao a tutti popolo del tubo e bentornati su American Tiff 80 dobbiamo andare a fregare un po' di roba che gli serve lì al barone, lì come si chiama? il barone d'esta minella sapida e quindi dobbiamo ripulire un po' di appartamenti qua e là finché non troviamo quello che sua maestà il barone gli serve detto questo io comincio col ricordarvi che in descrizione c'è la mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis amici miei poi vi ricordo che c'è la possibilità di offrire un caffettino al canale con il tasto super grazie nella giornata di ieri mi hanno offerto il loro caffettino Riccardo Bellumori e Trebiuccio 87 e a loro va questo mio video, questa mia dedicazza e adesso andiamo a rubicchiare a rubicchiare, qua ce n'è da rubicchiare eh, solo che non so allora questo sicuramente mi sente perché come vedete è sveglio se io entro da qua è la... oh il capanno, il capannazzo il capannazzo, che c'è quando entra il capannazzo? eh, ma io non ce l'ho il martello appresso c'ho solo il piede de... onik, onik c'ho solo il piede de onik, onik, porco e si però non va bene perché qui sono tutte porte quindi a me mi serve per forza un piede de... un martello, non il piede de onik, onik mi serve un martello raga si però questo è sveglio de no... ma perché la gente qua a sto posto de notte vaga? per quale motivo la gente vaga de notte? guarda quello, sta guarda fuori dalla finestra niente raga mi tocca andare a prendere il martello perché qua col piede de porco non si entra non si, tanto io apro dietro e se c'è qualche televisore qualcosa da prende cambia attrezzatura, mettiamo il martello così spaccamo... spaccamo ogni cosa allora, ripassamo de... da dove se passava? da qua si ma questo me sente cioè se questo è sveglio e va in giro come uno zombo eh, questo... questo me sente adesso cerco di spaccare il... il coso degli attrezzi, là così magari c'ha qualcosa de buono e de utile nel capanno dell'attrezzi vediamo un po' tanto non me sente de qua sta troppo lontano vediamo che posso prega qua dentro ok che c'è qua dentro de buono e de utile? una cippa la famosa cippas vabbè c'è qualche sordo sì ma il barone che li porta? la padella al barone gli porto ma voglio dire non c'è una cippa? qua dentro ce posso andare? no, niente raga non c'è una cippa qua dentro c'è uno 5 mila lire del vecchio conio vabbè provo a spaccare no, questa è la porta quella più lontana ma mi sente sicuro me sente raga sicuro come a me è stata messa e dice uh ma qua non si spacca col martello raga secondo me sta casa non si può secondo me sta casa non si può svaliggiare perlomeno non a quest'ora perlomeno non a quest'ora perché ci sente ci vede non si può no, no ci sente raga ci sente via via cambiamo casa cambiamo casa raga non è la casa adatta questa perlomeno non a quest'ora perlomeno non a quest'ora cambiamo casa questa che è la 705 cambiamo va cambiamo ma perché so sta ma ce l'ho i punti abilità? ce l'ho qualche punto abilità? sì, ho due punti abilità allora senza i acuti ottimo insegna e poi vediamo se c'ho la corsa resistenza livello 3 e no però costo 3 zaino livello 2 e no vabbè valutazione a posto niente raga tocca tocca a nassene da cà tocca a nassi ancora a usta ma fa grande capo vuole pranzo c'era una pubblicità quando ero più giovincello che faceva ug grande capo vuole pranzo allora andiamo alla 706 allora che è questa qua la 706 è un pochino più eh vedete un pochino più messa eh io moce penso io alla 706 ragazzi la la derubbiamo tutta la 706 la 706 come vedete qua allora qui no sti bastardi hanno pure la la casa con le grate con le gratine con le graticole questo sta qua questo sta qua ragazzi questo c'ha le graticole ma guarda uuuh rambo che è rambo non si può prendere il cortello però è solo figurativazzo il cortello ciao si ma qua non si può non si può entrare non si può affancare ragazzi sta casa ancora peggio sta casa ancora peggio perché c'ha le graticole ma ci posso andare io sopra? cioè se io potessi andare sopra se io potessi andare sopra non so se mi spiego da qua tipo un raga io mi ricordo se poteva scalare nell'altro gioco e no non si può ma se io ci metto la macchina se io faccio così scusatemi che faccio così scusatemi perché comincia a essere un po' tic no non te sarta sulla ma che cavolata quando loro vogliono te fanno fare le cose obbligate vogliono le cose come dicono loro a me non mi piace questo nei giochi quando non ti danno la libertà di farti una cacchio di missione come te pare a te no deve essere come dicono loro deve essere tutto come dicono loro se non c'hai la chiave lì dei quadri non c'è poi innentro lì e andiamo qua dentro ce la faremo a fare qualche cosa stanotte ma non lo so mica come diceva Soradella ma non lo so mica allora cambia attrezzatura ridammi sto piede di porco gliela famo a fare niente ve lo dico io sta puntata non gliela famo a fare niente non gliela famo a fare niente allora questa sta in salone per tutta la notte ottimo ottimo questa sta in salone per tutta la notte quindi ci sarà una finestra da sfornare per entrare no? ci sarà una finestra per entrare no? o non c'è sta una finestra qua ci potete entrare no? non ci potete entrare non potevamo fare niente qua i fili se vogliono tagliare i fili se vogliono fare qualcosa non si può fare niente a posto è stato bello spero che vi siate divertiti ecco questa sta in salone io mo gli entro da qua allora gli imbocco qua gli posso imboccare qua? non gli posso imboccare a posto ma non c'è solo i fili dai non c'è solo la finestra qua c'è tutta la veranda uh c'è sta finestra qua a posto gli imbocchetto da qua gli imbocchetto da qua qua a posto gli imbocchetto da qua gli imbocchetto da qua oh che vorrà il barone che vorrà il barone ci sarà qualcosa che gli si può dar barone di staminella sabida che è gli piacerà la sveglia ma non è che c'è qualcuno qua no? deve fare che c'è qualcuno vabbè che vorrà il barone le scarpe da tennis se vi viene il barone le scarpe da tennis ci credo poco per il barone se vi viene le scarpe da tennis allora io andrei a aprire anche la porta se tanto quella non me vede me vede dite? pazzoletto se me vede pazzoletto se me vede sì ma mo questa sta in salone no? io come faccio a passare senza che lei mi veda? questa me vede oh ragazzi questa non me vede è più ciecata de 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 ma manco da dentro posso aprire la porta cazzette scarpe scarpe tutto quello che al barone gli può servire qua che c'è? niente qua che c'è? niente qua che c'è? videocassette vai 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 quella passeggia della e me ne vede qua quella passeggia della ma le luci qua non si può non spegne questa mega casa che spettacolo tutta libera tutta libera tutta per mia tutta per mia questa ad esempio il barone voleva forno a microonde una cosa che voleva il barone ma non non vedo forni a microonde non vedo forni a microonde ragazzi qua intanto aprimo tutte le finestre aprimo tutte le finestre perché poi adesso andiamo in macchina a posare la roba e rientriamo ovviamente da qua dov'è la macchina? lo cacchio l'ho parcheggiata la macchina ma questa è l'altra casa c'è uno che non si fa l'icassù c'è uno lì che sicuramente non si fa l'icassù eccolo vedete quello c'ha proprio la faccia di quello che non si fa l'icassù vedete c'ha proprio la faccia ma fatemi capire ma io sono entrato di qua ma in quale casa sono sbucato? ma che ho fatto? ho giro di sette case no ragazzi non riesco a capire cioè ho fatto il giro di sette case no non riesco a capire cioè sono entrato in una casa e sono uscito in un'altra non lo so comunque ho aperto ho lasciato una finestra aperta qua dietro quindi ritorno oh no non c'è eh eh non c'è credo che non entrava radio portatile continuiamo a ripulir tutto qua niente uh una calcolatrice una scaccolatrice ok niente telefono 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 casa telefono casa qua non c'è niente niente uh soldini soldini venite da papà soldini ragazzi l'hiamo ripulita sta villa sapete che vuol dire ripulita non lo so ve lo devo spiegare in che lingua macchina da caffè che spettagli stiamo a fregare sto monno e quell'altro sto monno un pezzo di sto monno e un pezzo pure di quell'altro so pieno sì però la cacchiata è che non si possano aprire le porte cioè nemmeno da dentro si possano aprire queste porte vabbè io direi che sta casa l'hiamo fatta l'hiamo bella che ripulita l'hiamo bella che ripulita io però non riesco a capire perché entro da una parte e esco da un'altra non è una cosa che cioè entro da una casa e esco da un'altra cioè se è entrato laggiù sono capitato qua dentro non lo so forse so io che mi sbaglio cioè il mio senso dede il mio senso dede eh sì questo more ogni volta che c'è da fare un cacchio di coso 5 metri questo more ogni volta ci sono da fare 5 metri allora cambio artezza ad ora ripostiglio 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 ok ok andiamo andiamo ma voi dite che saremo sospetti ad andare in giro così col bagagliaio 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 bagagli bagaglino allora la 702 ce la siamo levata dalle pa allora passiamo un attimo dal barone ah no non si può passare dal barone non si può passare dal barone allora andiamo prima dalla 701 la 701 che è un po' isolata così eh potarsi ci troviamo qualcosa di di cagliarda andiamo alla 701 va c'è il padrone proprio lì c'è il padrone proprio lì chi se ne frega chi se ne frega tanto quello è scemo non vedi che è scemo manco c'è quattro ti è ti è c'è Marco lì che sta noi andiamo di qua Marco sta lì noi andiamo di qua a posto piedetto di porco qua dentro c'è nessuno io spero che non ci sia nessuno qua ok entriamo non ci dovrebbe essere nessuno insomma allora vediamo un po' in camera questi che c'hanno niente tutta roba inutile niente ammazza in casa dei poveri oh si dice in casa dei poveri nonnetto diceva in casa dei poveri non manca mai niente qua mi pare che manca tutto ok una televisione via una televisione si ma una televisione ma come ce la trasportavo della televisione la vedo dura a portare della televisione anche perché questo non salta che la televisione che amarezza ragazzi la roba all'in si può trasportare allora cambiamo sta qua che c'è qua che c'è il bagnetto allora cominciamo ad aprire anche la finestra qua che tanto quello si sta a riposare e noi cerchiamo di sgattagliolare oh ma vist 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 via 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 ma vist ma vist via 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 ma vist ma vist ma vist chi sto qui ma vist ma vist e io scappo proprio via io scappo proprio via ma vist ma vist Io me ne vado dal barone Vado dal barone a ridargli la roba Il barone è staminella sabida C'è qua oh C'è qua ma questa è un'altra casa oh Questo è il tizio che prima Gli ho fregato Questo è il tizio che prima gli ho fregato La moto Nelle prime missioni Buono Buono Gli posso fregare altra roba allora Tizio qua E' pieno di gente qua però Bisogna essere attenti che questi Questi me sa che menano Stanno un attimino attenti Allora questi c'hanno tutte grade Eh ma qui c'ho il martello per aprire queste porte Vero? No Che belle case libere dove non c'è Ma questi c'hanno una lira Ma questi c'hanno una lira manco per piagne Si c'hanno l'occhio Da me si dice non c'hanno l'occhio per piagne questi Ma per carità Ma per carità Era meglio tornare Si c'è qualcosa Ma lì di dentro c'è il padrone C'ha verde C'hanno niente questi C'hanno l'occhio per piagne Facciamo perde va Ritorniamo dal tizio là che ci ha chiamato No andiamo dal barone Vediamo se Gli potremmo portare qualcosa Sto barone Di quello che abbiamo preso Se no ci vendiamo tutto Vediamo un attimo Ragazzi sto gameplay Sono stato bravo Non ho spaccato niente La macchina Per quanto riguarda la macchina Allora Dai portiamo tutto al barone Lì Vediamo un po' Vediamo un po' Eh si Pidi 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 Eh si fa presto Di pidi 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 Allora Ecchi me Barò c'è qualcosa Che ti può servire Andiamo a vedere Allora Consegna Oh Ce l'abbiamo fatta Raga Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Oh Parla con Stax Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Abbiamo avuto la fiducia La fiducia Sto stato Segnalato Sotto Mentite Spoglie Non ce ne può fregare di meno Stax Hai visto quanto ho tornato bravo Oh Possiamo iniziare a fregare le macchine Che spettacolo Possiamo iniziare a fregare le macchine Però intanto Fatemi Un attimino Fatemi Un attimino Vende tutto Ticchete 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 Ok Ok, ma lui non mi vende niente? Niente Vabbè, comunque non fate le soldini, eh Allora, chiudiamo qua Fatemi cambiare i vestiti, se no Mi dicono Eh Se no, mi dicono che Capito? A post Mi dicono che sto sospetto Andiamo da sto Raymond Andiamo a conoscere sto Raymond, raga Così iniziamo pure un po' a fricchiare le macchine, sicuro Cominciamo a fare i sordi veri, insomma Allora, andiamo da Raymond Dovrebbe essere qua, Raymond Di qua, giusto? Ammazza come va su la mappa qua Non sapevo Che andava più su dalla stazione di polizia Se non c'ero mai stato Raga, è un'altra mappa, è un altro mondo Stanno a Silent Hill, praticamente Stanno andando a Silent Hill, ragazzi Porca puzzoletta quanto sta lontano Eh, la ghicchia qua, eh Su sta zona la ghicchia Come vedete c'è qualche piccolo micro lag Eh, vedete, è un'altra città Abbiamo scoperto un'altra città Porca miseria Io pensavo che la mappa era tutta lì E invece è un'altra città, ragazzi C'è una seconda città Che io ignoravo Ma porca miseria Bellissimo Bellissimo C'è un'altra città E andiamo da Sherry Cooch Qua, qui, da, 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 da Raymond Che spettacolo C'è un'altra città Raymond Buongiorno, mi manda il tizio di prima Come back now Howdy young man How may I help you I heard you need cars Well, by gum I do Matter of fact I got me a late order I sent out a guy to bring in a pickup And you know what he does He calls me from jail He gets one phone call And he calls me And what do you think I did I said You got the wrong number, son You go find me one of these And I'll pay you a little finders Lui vuole che gli frega un pickup Quindi ragazzi Prossima puntata Si va a fregare il pickup Si inizia con Si inizia con i furti di auto Non me l'aspettavo sta cosa Della seconda cittadina Sono veramente 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 Soddisfatto Ragazzi Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate Di questo gioco Se volete che continuano A portarlo Guardate tra l'altro Come si chiama Grand Theft Auto Questo gioco Prende tanto Anche da quello Lasciate un bel like Commentate Io ringrazio gli amici abbonati Anima vita e cuore del canale Concento del canale Di sostenere andare avanti Per tutti questi contenuti Amici io vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao